il cittadino dello spazio è un film spaziale un film un film di fantascienza già il titolo lo dice è un film di produzione americana del 1955 per la regia di Joseph Newman il protagonista è Rex Rison è un attore non conosciutissimo però che ha fatto questi film un po' di nicchia di quei tempi e la vicenda è particolare perché parla appunto del protagonista appunto interpretato da Rex Rison un brillante scienziato che riesce ad assemblare una particolare macchina un particolare congegno molto tecnologico in grado di fare cose scientifiche particolari e viene messo in comunicazione poi con un personaggio che gli fa incontrare un gruppo in una certa località d'america di scienziati che lavorano per il benessere loro dicono e il progresso della dell'umanità anche se dopo lui scopre si mette in contatto con queste persone scopre che queste persone però sono state private dalla volontà e beh adesso c'è tutta questa storia spaziale tutta questa storia questa storia fantascientifica è un film per chi ama questo genere di cose è un film un film di fantascienza e non tutti l'amano io devo dire alcuni film di fantascienza mi piacciono altrimenti uno dei miei preferiti una serie preferita che me la ricordavo da bambino era spazio 1999 con l'astronavi alfa per me era stupendo era così vintage ecco aveva un'ambientazione vintage uno dei mobili vintage delle cose proprio degli anni 60 un'atmosfera pop ecco spazio 1999 1999 con il grande Landau Martin Landau lui è stato uno dei miei attori preferiti particolare somigliava tanto a mio zio mio zio Arminio ecco quando rivedo Landau rivedo mio zio comunque e quindi spazio 1999 è stata una delle mie serie preferite preferite di fantascienza questa era appunto negli anni 70 questo appunto è un film degli anni 50 dell'epoca sempre di Hollywood Hollywood ha fatto questi anni sempre cose grandi film altri film minori di nicchia però in cui ha usato sempre un grande uso di mezzi di energie di grandi budget e c'è sempre questa ambientazione di dischi volanti di interni di astronavi di tutte spaziali di diverso colore bello dall'idea proprio di un altro mondo di un altro mondo parallelo al nostro quindi questo cittadino dello spazio è da vedere ripeto soprattutto per coloro che amano questo questo genere sempre appunto io dico per i per i cinefili io sono sempre affascinato da questi raggi laser da questi robot dischi volanti ecco tutte tutte di diverso colore questo anche colore un po' sgranato degli anni 50 un po' non ben identificato ecco mi dà tanto di questo sapore di atmosfera galattica vintage anche qua e va visto per questo come un prodotto della fantasia umana della cinematografia non come un cult o come qualsiasi cosa bensì come uno dei tanti film che però in sé descrivono la potenzialità la capacità del cinema di produrre diversi diversi generi quindi guardiamolo guardiamolo è un prodotto pop io lo definirei pop ha una sua poesia una sua lirica magari facessero oggigiorno dei film penso all'Italia una volta l'Italia l'Italia anche lei negli anni 60 ci guarda aveva fatto oltre a film epici film film di fantascienza uno che mi piace molto è il pianeta degli uomini spenti con orsini film molto bello e magari l'Italia facesse ancora film di questo genere invece oggi fa soltanto commediazze Don Matteo Don Matteo con Raul Bova sempre peggio oh mamma mia storie di amorazzi di cornazze di famiglie allargate di una lentezza incredibile di una cosa tremenda mamma mia ma perché non fanno qualcosa di spaziale come questo io vorrei sapere perché i registi non vedono queste cose e non dicono facciamo qualcosa di questo tipo no invece delle solite scemate io dico perché perché me lo chiedo perché perché li considero a loro solo dei mestieranti non coloro che vogliono fare del buon cinema ecco portiamo a casa la commediazza portiamo a casa la morazzo portiamo a casa appunto Don Matteo 25 che tanto il pubblico e Beote lo guarda non deve essere così noi dobbiamo sviluppare un senso critico del bello e ribellarci appunto a questa melassa brodosa che ci danno guardiamo cosa siamo stati capaci di fare tanti anni fa e diciamoci ma perché non lo facciamo più ci siamo rimbambiti completamente magari fossimo ancora cittadini dello spazio ma non dico dello spazio ma cittadini veramente della terra buona visione grazie a tutti grazie a tutti